Servizi straordinari Non ha il biglietto e si rifiuta di scendere dal pullman in vendo con violenza nei riguardi dell'autista che ha tentato di riscuotere il prezzo della corsa. Arrestato in piazza Crispi un 43enne di nazionalità nigeriana per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Reddito di cittadinanza ammontano a 7.661 le richieste andate a buon fine in provincia di Brindisi superano le 82.500 quelle accolte in tutta la regione Puglia. Dura presa di posizione dell'ufficio di presidenza di Forza Italia sarà espulso chi aderisce al comitato di Toti. In Puglia vince la linea del deputato Mauro Dattis. Il senatore Luigi Vitali dice addio al partito e commenta un errore. Il problema non siamo noi. Continua il ritiro del Brindisi a Sturno domani allenamento congiunto degli uomini di Olivieri contro il Forte Savoia una delle big del prossimo campionato di serie D. Intanto prosegue la caccia ad altri due calciatori under. Ad essere ufficiale Andrea Tiritiello è nuovamente un calciatore della Virtus Franca Villa. Nella giornata di ieri raggiunto l'accordo col calciatore e con il Cosenza questa mattina la firma del contratto. Proseguono le trattative per portare in biancazzurro anche l'attaccante del Cosenza Leonardo Pérez. 9 agosto ben ritrovati venerdì benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale in apertura alla cronaca con i controlli straordinari sul territorio brindisino in particolare nel comune capoluogo operati dalla questura di Brindisi sotto osservazione i luoghi più frequentati dai giovani. Servizio di controllo straordinario del territorio a Brindisi finalizzato a rendere fruibili le zone notoriamente a maggiore vocazione di intrattenimento. Un servizio che ha coinvolto diversi agenti della questura di Brindisi. Gli equipaggi della sezione volanti, dei nibbio, della polizia di frontiera che ha reso disponibili anche le unità cinofile nonché della sezione polizia stradale di Brindisi e del reparto prevenzione e crimine di Lecce. Oltre ai consueti e visibili servizi nei pressi del Teatro Verdi e sul Lungomare sono state interessate al controllo anche Piazza Cairoli, Corso Umberto e Corso Garibaldi, zone interessate dalla presenza di numerosi locali quali bar, pub e ristoranti particolarmente affollati e dove sono stati effettuati interventi di varia natura. Controllati anche i posti di abituale ritrovo di commitive di giovani che con la loro esuberanza del fine settimana non sempre sono consapevoli di arrecare disturbo alle persone che abitano nelle zone vicine. Con l'ausilio dei cinofili sono stati effettuati controlli e passaggi presso la stazione ferroviaria nei sottopassi, nella piazza antistante la stazione e in tutte le zone che sono notoriamente ritrovo di commitive di giovani per la prevenzione dello spaccio e dell'uso delle droghe di qualsiasi tipo. In tutto sono state 165 le persone controllate, 69 i veicoli, 8 le contravvenzioni al codice della strada, 13 i controlli con etilometro e ancora 2 le perquisizioni personali e 4 i controlli amministrativi. Brindisi non ha il biglietto e si rifiuta di scendere dal pullman in vendo con violenza nei riguardi dell'autista che ha tentato di riscuotere il prezzo della corsa. Si è arrestato in piazza Crispi nei pressi della stazione un 43enne di nazionalità nigeriana per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Nello stesso contesto sono stati denunciati due suoi connazionali per gli stessi reati. Piazza Crispi e le strade adiacenti continuano ad essere oggetto di costante azione preventiva e di contrasto con arresti e denunce per spaccio di droga e reati contro la persona e il patrimonio. Recentemente anche i carabinieri di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per interruzione di un servizio pubblico di pubblica necessità 8 cittadini extracomunitari, 5 di origine nigeriana, un capo verdiano, uno del Mali, uno della Sierra Leone. Domiciliati nel resort dei Normanni a San Vito, le otto persone sprovviste di valido titolo di viaggio all'invito rivolto dal personale preposto al controllo, si erano rifiutate di scendere all'autobus di linea della società trasporti pubblici. Da lì è scoppiato poi il caos. Il reddito di cittadinanza montano a 7.661, le richieste andate a buon fine in provincia di Brindisi, superano le 82.000, quelle accolte in tutta la regione Puglia. Superano le 82.500 unità le richieste accolte per il riconoscimento del reddito di cittadinanza in Puglia. Lo rende noto il deputato del Movimento 5 Stelle, Giovanni Luca Aresta, dopo la pubblicazione dei dati IMSS. Numeri importanti che certificano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, commenta il parlamentare mesagnese, quanto fosse necessario e urgente varare queste importantissime misure di sostegno alle tante famiglie in difficoltà economica presenti in tutta Italia. Solo in provincia di Taranto sono state accolte 14.000 domande, mentre ammontano ad oltre 7.600 le richieste andate a buon fine in provincia di Brindisi, il numero più basso registrato nella regione Puglia. Reddito e pensione di cittadinanza, fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle per contrastare la povertà e per attuare l'inclusione sociale e lavorativa, prosegue Aresta, sono entrati nel vivo da circa 4 mesi e hanno già raggiunto in tutta Italia oltre 2 milioni di persone, suddivise in circa 840.000 nuclei familiari. Ma il reddito di cittadinanza non è solo questo. Il provvedimento ha introdotto incentivi per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i beneficiari del reddito di cittadinanza. Un'altra delle novità introdotte, sottolinea ancora Aresta, è rappresentata dai navigator che avranno il compito di accompagnare i percettori del reddito di cittadinanza in un percorso formativo e di ricollocamento nel mondo del lavoro. A tal proposito, al fine di incrementare l'offerta di lavoro in tutto il Paese, il Governo ha inoltre emanato il decreto crescita e il decreto sblocca a cantieri, entrambi recentemente convertiti in legge dal Parlamento. A Ostuni, i carabinieri, unitamente ai colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, del nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto, hanno effettuato una verifica all'interno di un ristorante della Città Bianca. Nel corso del controllo effettuato è emerso che il locale pubblico presentava alcune irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale. Nella circostanza sono state anche rilevate alcune inadempienze riguardanti il decreto legislativo 81-2008 riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro, circa la sorveglianza sanitaria e gli obblighi del datore di lavoro nei riguardi di un dipendente. Pertanto il titolare è stato sanzionato in relazione ad alcune omissioni documentali e distruzione nei riguardi del dipendente per un importo di quasi 11 mila euro. Lasciamo la cronaca, almeno per il momento. Adesso ci occupiamo della delicata situazione politica che vive Forza Italia a livello nazionale, ma inevitabilmente questa situazione ha delle conseguenze anche a livello locale. Ieri è arrivata la nota da parte dei vertici del Partito Azzurro, una dura presa di posizione nei confronti di chi ha aderito all'associazione promossa da Giovanni Totti. Tra le persone a un passo dall'espulsione c'è anche il senatore francavillese Luigi Vitale. Il nostro primo servizio con la cronaca di quanto accaduto e poi ascolteremo proprio il parlamentare francavillese. Il coordinamento di presidenza di Forza Italia prende atto della costituzione dell'associazione Cambiamo, promossa da Giovanni Totti, che nasce su presupposti divisivi e con finalità totalmente incompatibili e inconciliabili con l'iniziativa politica di Forza Italia. Così, in una nota, il Partito Azzurro. Si ritiene quindi che, obbedendo a un principio di lealtà e trasparenza, i dirigenti di Forza Italia che abbiano partecipato alla costituzione dell'associazione Cambiamo o che in futuro decidano di aderirvi, debbano considerarsi decaduti dai loro incarichi in Forza Italia, anche per quanto riguarda gli incarichi nei gruppi parlamentari. In totale assenza di iniziative autonome e nel presupposto della totale incompatibilità con Cambiamo, saranno inoltre immediatamente attivati gli organi statutari per l'espulsione da Forza Italia di chi ha aderito o aderirà all'associazione. Un messaggio, quello del Comitato di Presidenza Azzurro, che ha avuto inevitabili ripercussioni anche a livello locale, rilanciato sul territorio brendisino anche dall'attuale coordinatore regionale del partito, l'onorevole Mauro Dattis. Tra i promotori dell'associazione Cambiamo c'è infatti il senatore francavillese Luigi Vitali. E proprio con Vitali, nei giorni scorsi, c'erano state scintille sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie, in particolar modo rispetto alla possibilità dell'arrivo di voli civili all'Arlotta. Scontro che aveva portato anche la segretaria cittadina di Forza Italia, Brennissi e Ernestina Sicilia, a criticare Vitali, ricordando proprio tra l'altro il suo ormai prossimo passaggio in Cambiamo. Insomma, adesso è scontro totale all'interno del partito, in attesa di ulteriori novità. E a proposito di questa vicenda abbiamo ascoltato il senatore Luigi Vitali, che ha commentato così, è un errore, il problema non siamo noi, ma sono pronto comunque a lasciare il partito. Senatore, sicuramente è un momento particolare per quanto riguarda la politica nazionale, il governo che rischia di sciogliersi, ma è anche un momento particolare per un dibattito ormai da tempo molto intenso e vivace all'interno di Forza Italia. Ieri c'è stata anche una presa di posizione abbastanza dura da parte del partito. La sua posizione? La mia posizione è chiara. Io sono un socio fondatore di questa associazione Cambiamo, organizzata da Giovanni Totti. Secondo il mio punto di vista, il nostro punto di vista, questa associazione non è incompatibile con l'appartenenza a Forza Italia e con la permanenza in Forza Italia. I soliti noti hanno preferito mandarci una bolla di scomunica. Evidentemente nel solco di quel principio meno siamo, meglio stiamo. Noi ne prendiamo atto perché non si rimane in un partito se non c'è il piacere a stare insieme. Mi dispiace soltanto del presidente Berlusconi, al quale stanno facendo fare degli errori clamorosi e comunque con il quale continuo a mantenere un rapporto personale ottimo, basato su stima, su considerazione. Pazienza, le nostre strade si dividono, buona fortuna. Ora mi aspetto che Forza Italia, quella che resta di Forza Italia, a partire dalla Puglia, raggiunga vette di consenso elevatissime. Visto che il problema eravamo noi, adesso togliamo il disturbo e quindi adesso esploderà Forza Italia. Vediamo se chi aveva ragione. Di fatto adesso Vitali non farà più parte di Forza Italia? Stando a quel comunicato non c'è stata nessuna smentita. È vero che non ci sono le Camere in funzione, quindi io sono vicepresidente del gruppo, però non è escluso che nei prossimi giorni le Camere vengano convocate per consacrare la crisi di governo. In quella circostanza io rimetterò il mandato di vicepresidente del gruppo alla presidente Bernini e valuterà lei il da farsi. Io leggo soltanto quello che viene pubblicato e quello che scrivo, non c'è stata nessuna smentita. A meno, non uno segue la sua strada. La politica è una parentesi e soprattutto deve essere fondata su rapporti di lealtà e su rapporti umani di sincera amicizia. Quando vengono meno questi elementi e questi valori è inutile continuare a rimanere con persone che non stimi e che forse nemmeno loro ti stimano. In merito alla nota diffusa dagli organi di stampa da Ilaria Cassano, intervenuta in rappresentanza della società SSD Acqua Wellness, l'amministrazione comunale di Brindisi risponde che le affermazioni e preoccupazioni riportate sono infondate. La piscina comunale di Brindisi, del rione Sant'Elia, riaprirà, si lavora da tempo al bando che verrà pubblicato a breve per l'affidamento in gestione dell'impianto comunale, come nella prassi amministrativa della trasparenza tutela della legalità. Sarà possibile riavviare le attività per l'utenza nei tempi congrui ad un passaggio con un nuovo contratto di gestione. La signora Cassano ha dichiarato il sindaco Riccardo Rossi può stare tranquilla, questa amministrazione comunale procede con bandi pubblici aperti a tutti per l'affidamento in gestione delle sue strutture. Se inoltre si pensa di condizionare gli indirizzi dell'amministrazione con comunicati privi di fondamento ci si assume la responsabilità delle proprie affermazioni. Il famoso attore Michele Placido è stato a Brindisi e ha fatto tappa nel ristorante Il Trullo. Gradita visita nel ristorante Il Trullo di Corso Roma a Brindisi, il famoso attore Michele Placido infatti ha deciso di fermarsi nel locale di Angelo Filomeno per gustare le prelibatezze del posto. Gentile e disponibile, Placido, che passa spesso dal Salento e da Brindisi in particolare, ha posato per un selfie con i titolari e i collaboratori dell'attività di ristorazione evidenziando le qualità del locale e della città. Grazie, complimenti, benissimo, 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 è un onore per noi avervi. Benissimo, 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 è un onore per noi avervi. Grazie, grazie. Ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, la linea Valle a Regia curata oggi dalla sede di Brindisi, da Dario Spagnolo a tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. I carabinieri di Sandonaci dopo una serie di accertamenti hanno denunciato per i reati di diffamazione a mezzo stampa un 29enne di Sandonaci attualmente sottoposto alla misura catelaria dell'arresto domiciliario. L'uomo nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio profilo Facebook alcuni post diffamatori nei riguardi di una donna del luogo che ha denunciato il fatto. Il profilo social dell'utente e il luogo virtuale, la pubblicazione di contenuti offensivi sulla bacheca Facebook, costituisce una forma diffamatoria di comunicazione con più persone. Ci spostiamo adesso a Torre Guaceto, dove è tutto pronto per l'avvio dei mercati della terra e del mare di Torre Guaceto. Da questa sera visite guidate e spettacoli nell'area protetta. È tutto pronto per l'avvio dei mercati della terra e del mare di Torre Guaceto. Da oggi e per tre giorni, a partire dalle 19.30 e sino alle 24, il giardino del centro visite della riserva, presso la borgata di Serranova, ospiterà i produttori virtuosi del territorio e la cucina di strada. Oltre 30 stand con il meglio dell'offerta produttiva e culinaria pugliese. Dalle 19.30 alle 21.30, ogni sera, avranno luogo anche le attività didattiche dedicate ai bambini a cura degli operatori della cooperativa Talassia. Alle 21.00 si celebrerà l'inaugurazione della Kermessa, la presenza del presidente del consorzio di Torre Guaceto Corrado Tarantino e dei rappresentanti degli enti territoriali. Poi inizierà la festa vera e propria, con lo spettacolo dei Taricata presso il giardino botanico. Pizzica di terra ed acqua dolce, tipica di Torre Guaceto, un viaggio coinvolgente nei canti e nelle danze popolari dell'Alto Salento e del Mediterraneo. Le sinfonie dell'antica e nuova tradizione faranno la colonna sonora agli incontri e alle degustazioni dei mercati. Sabato 10, poi alle ore 21.30, arriverà il momento dell'approfondimento sul rapporto che lega il cibo all'ambiente e sulla necessità di mangiare con consapevolezza. Presso l'anfiteatro del centro visite si discuterà di quanto le scelte alimentari quotidiane abbiano un pesante impatto sugli ecosistemi e siano strettamente collegate a cambiamenti climatici. San Michele Salentino è divenuto ormai il paese della poesia. Nei giorni scorsi si è svolto il suggestivo evento Attacco Poetico, giunto ormai alla sesta edizione. Non solo muri, ma saracinesche strade diventano poetiche. A San Michele Salentino si è svolta la sesta edizione di Attacco Poetico. Le vie del desiderio è il titolo dell'evento di quest'anno, a metà strada tra passeggiata e festival, come hanno raccontato gli organizzatori. Un elogio del desiderio in tempi in cui si parla della sua perdita, come una forza irresistibile che ci spinge verso la conoscenza e la bellezza, verso l'altro. Una passeggiata poetica per esercitare il desiderio di essere e dell'infinito. Il movimento Attacco Poetico è partito dall'etimologia stessa della parola desiderio, Desidera, nostalgia delle stelle, in cui è racchiuso il mistero di ciò che è l'uomo. Si può avere nostalgia solo di ciò che in parte abbiamo conosciuto e riconosciuto come buono per la nostra vita. Il movimento Attacco Poetico ha così pensato di far esplorare il desiderio, accompagnando il visitatore per le vie del paese. In Piazza Marconi convoglio la luna, 50 anni dallo sbarco, l'oggetto della misteriosa luminosità che dall'antichità ha incantato gli esseri umani, satellite del desiderio romantico, di poeti, letterati, artisti, musicisti e di comuni mortali. Poi le strade che giungono alla piazza sono diventate la via dell'altrove, il desiderio di giungere in un luogo dove potersi ristorare dal cammino percorso e porre termine al viaggio. Qui abbiamo incontrato un Ulisse senza tempo, quello raccontato nella performance teatrale di Giuseppe Ciciriello, accompagnato dal chitarrista Donato IV. La via degli altri, il desiderio dell'uomo, dove trova il suo senso nel desiderio dell'altro. E ancora passeggiando ci imbattiamo nelle vie del bene, perché solo un bene infinito è capace di colmare il nostro desiderio. La via dell'incanto, la via dell'amore, con il desiderio dell'amore in otto storie di coppie letterarie. E poi la via della natura, la via della conoscenza, il desiderio di sapere, tra installazioni di libri di autori fondamentali per lo sviluppo umano, con un omaggio a Leonardo da Vinci. E per finire, la via dell'infinito, il desiderio è sempre desiderio di infinito, che non può essere limitato ad alcuna contingente soddisfazione, con un omaggio a Giacomo Leopardi, a 200 anni dal suo infinito. Adesso è ufficiale, Andrea Tiritiello è un calciatore della Virtus Francavilla. Il difensore ha raggiunto nella giornata di ieri l'accordo con il sodalizio Biancazzurro. È un ritorno per Tiritiello dopo l'ottima stagione, vissuta con la stessa maglia lo scorso anno. Tiritiello arriva dalla Cosenza, e sempre dal Cosenza potrebbe arrivare nelle prossime ore anche Leonardo Perez. Vediamo le ultime novità in questo servizio, nel quale parliamo anche e soprattutto della situazione. Parti Pilo. Prosegue la preparazione della Virtus Francavilla in vista del secondo turno di Team Cup, che la squadra di Trocini giocherà a Cremona contro una delle formazioni meglio allestite del campionato di Serie B. Il club del presidente Antonio Magri sogna il passaggio al terzo turno, forte dell'ottima prestazione sciorinata in occasione della prima partita contro il Novara al Giovanni Paolo II. Intanto è ancora tempo di mercato in casa biancazzurra. Molto ruota attorno alle intenzioni del fantasista e capitano Anthony Partipilo. Non ho mistero che l'attaccante sia appetito da diversi club, ma nelle ultime ore la Ternana ha cominciato a spingere con forza sull'acceleratore. La prima proposta del club Umbro è stata respinta dalla società biancazzurra, ma è probabile che nelle prossime ore arriverà un rilancio. Se la Virtus dovesse accettare l'offerta della Ternana, Partipilo partirà immediatamente. A quel punto il Francavilla potrà riaprire ufficialmente la trattativa con l'attaccante del Cosenza Leonardo Perez, parcheggiato momentaneamente per l'arrivo della punta della regina Alan Baclay. Perez ha già l'accordo con la Virtus Francavilla e gradirebbe il trasferimento in Puglia, tra l'altro l'ex attaccante dell'Ascoli e nativo di Mesagne. Non è chiusa definitivamente neppure la trattativa per il ritorno in biancazzurro di Tiritiello. Il difensore del Cosenza, che sembrava promesso sposo del Catanzaro, non si è accordato con il club calabrese e dunque potrebbe tornare a essere un giocatore di Bruno Trocini. Il tutto si dovrebbe decidere entro la fine della prossima settimana, anche se c'è tempo fino al termine del mese per completare le operazioni in chiave mercato. E come abbiamo detto da oggi, Tiritiello, però è ufficialmente un calciatore della Virtus Francavilla. Adesso il Brindisi, domani la squadra di Massimiliano Olivieri scenderà in campo per un allenamento congiunto contro il Forte Savoia, una delle società e delle squadre più forti sicuramente del campionato di Serie D. Intanto prosegue il mercato dei bianco-azzurri, ancora a caccia di un under per completare la rosa. E prosegue il nostro viaggio tra i vari club di Serie D. Abbiamo ascoltato il direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo, però non riusciamo con i tempi a mandarlo in onda. E allora vi proporremo le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto durante 100 Sport Magazine nel corso dell'edizione di domani del nostro telegiornale. Continuate a seguirci per quanto riguarda il Brindisi ogni giorno perché ci saranno importanti novità nelle prossime ore per quanto riguarda il club bianco-azzurro. Parte tecnica di questo telegiornale curata da Dario Spagnolo in regia. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.